ciao a tutti e bentornati ancora una volta su indie gameplay ita oggi siamo su kingdoms and castles un gioco che è appena uscito su steam a un prezzo onesto di 9,99 euro è in early access sappiate che questo nasce già come un gioco di successo perché su kickstarter o comunque campagna di crowdfunding ha ottenuto con 1.400 donatori circa il 725 per cento dell'obiettivo iniziale quindi ha avuto un grandissimo successo gli sviluppatori lo stanno seguendo il gioco è appena uscito l'ho provato andiamo a vedere in che cosa consiste il gioco è generato proceduralmente con degli importanti algoritmi che gestiscono le foreste e il clima nel senso che l'anno passerà piuttosto velocemente ci saranno i periodi di nevicate molto veloci devo ammettere che ridurranno la produzione dei campi e soprattutto le foreste si espanderanno in base alla nostra influenza se ci prenderemo cura di una foresta questa crescerà bene se inizieremo a tagliare tutto come dei pazzi no allora iniziamo con una nuova partita iniziamo con la modalità easy praticamente abbiamo delle belle lunghe estati dei short dei short dei corti inverni e non abbiamo moltissimi assalti da parte di vichinghi e dragoni possiamo scegliere una land generiamone un po quando troviamo qualcosa interessante dire che questa potrebbe anche essere una buona buon compromesso nostro standardo lo chiamiamo indie land e iniziamo subito andando ad esplorare in che cosa consiste questo game allora iniziamo dando un'occhiata a quello che abbiamo intorno intorno abbiamo vedete delle foreste metto in pausa con miniere diciamo di ferro miniere di pietra alberi tanti alberi allora questa potrebbe essere una zona iniziale piuttosto buona anche questa della verità anche se qua non c'è il ferro quindi magari potremmo anche pensare di vuotare la visuale cosa non indifferente e andare a piazzarci l'inizio il castello che è gratuito lo piazziamo qua possiamo andare a ruotarlo vedete grafica davvero molto molto gradevole iniziamo a piazzarlo qui lo avviamo a velocità rapida e andiamo subito a vedere anzi metto in pausa le risorse le risorse abbiamo il legno abbiamo la pietra abbiamo il cibo ci fa tutto il report dell'ultimo anno quanto l'abbiamo prodotto quando l'abbiamo consumato l'oro il charcoal praticamente il carbone insomma una sorta di carbone ottenuto dal legno quindi diciamo carbonato per riscaldamento cose varie il ferro e i tools perché questo gioco prende un pochino spunto anche del the settlers dove noi producevamo gli strumenti da lavoro e qua abbiamo gli armamenti se poi dato che questa questo gameplay non sarà arriverà assolutamente a livelli avanzati se poi incuriositi andrete sulla pagina steam vedrete tutte le costruzioni che è possibile fare perché allora qua abbiamo il castle quindi abbiamo tutti i blocchi del castello quindi potremmo andare a costruire delle mura e proteggere la nostra cittadina interamente infatti questa è una posizione abbastanza infelice perché ovviamente io l'ho fatto per questioni comodità e velocità l'avessimo piazzato qui sarebbe stato meglio perché avremmo avuto tutto lo spazio per circondare la città comunque abbiamo creato il nostro castello vedete possiamo fare il gate la torre possiamo fare la torre degli aceri la ballista quindi quest'enorme balestra da sedio la sala del tesoro che ci consente di stipare diciamo del dell'oro abbiamo la camera della guerra che ci consente di aver sbloccare le balliste le caserme e così via la grande sala che ci fa fare delle feste delle mangiate questo è il fossato rallenta l'invasione degli ogre quindi è un fantasy alla fine e la barracks per la produzione di unità da combattimento abbiamo la città che ci consente di fare allora iniziamo con la strada perché la strada è fondamentale una e due iniziamo a fare questo ci costa non ci costa tantissimo devo dire ci costa uno di legno qua ci consente di fare dei ponti le case che andiamo subito a fare ne facciamo una poi altro il pozzo il cottage quindi delle case più grandi mentre qua ospitiamo 5 villici qua ne ospitiamo 12 il maniero 25 abbiamo la chiesa che ci consente di ottenere anche oro con le donazioni la libreria che aumenta la cultura generale la piazza la taverna l'ospedale questo è la costruzione su su acqua e qua il una statua di un lord tra gli diciamo i progetti dei degli sviluppatori un'integrazione con twitch in pratica chi streamerà twitch potrà ricevere i voti degli spettatori su degli eventi casuali che dovranno accadere nella mappa e stanno sviluppando anche un sistema in futuro faranno un sistema di eroi mentre a breve arriverà al sistema dei porti quindi con i mercanti che arriveranno e attraccheranno cibo qua potremmo costruire vari tipi di produzione di cibo la farma che facciamo immediatamente intanto iniziano già a scassarmi le palle allora iniziamo a fare questo altro cibo che abbiamo qui un'altra produzione qua abbiamo il granaio per evitare di perdere i raccolti d'inverno il granaio grande il mulino vento per produzione di cibo quindi ci farà pane e il panettiere appunto e il mercato l'industria invece molto importante perché ci consente di fare la guardia forestale in pratica per poter ripiantare le piante la cava per la pietra la stockpile per stipare risorse una stockpile più grande il charcoal maker quindi quello che brucerà legno per produrre carbonella insomma la miniera di ferro il blacksmith che ci produrrà comunque gli utensili e il mason per riparare le strutture con la pietra e rock removal la rimozione della pietra queste pietre qui che non ci fanno fare niente vedete unusable stone va bene intanto iniziamo dando dei comandi ai nostri villici possiamo ruotare la visuale come meglio crediamo posso dirgli cioppa cioppate tutto cioppate tutto gli ho messi vicini in modo che facciamo prima con il con l'abbattimento degli alberi ci mettiamo da parte un bel po di di legname qua stiamo iniziando già produrre cibo 2750 buono la strada è molto importante avere la strada che arriva la quindi andiamo sulla città prendiamo la road e la andiamo a piazzare più o meno qui così almeno riusciamo adesso è inverno infatti i campi non producono più per una posizione infelice va beh comunque abbiamo tanto legname perché l'abbiamo prodotto lì cuore la piazziamo qui e iniziamo anche la produzione di pietra ovviamente poi andando a cliccare allora sul singolo villico vediamo il suo nome gli anni cliccando sulle case vediamo quanti lo abitano e tutte le cose tipo se è contento è contento se questo questi qui questi 5 su 5 sono contenti se hanno accesso alla al charcoal se hanno accesso alla strada poi qua invece no se hanno accesso un pozzo niente ok abbiamo già prodotto anche queste io tengo velocizzato perché ovviamente in un video bisogna essere veloci abbiamo già un lavoratore su quattro che lavora alla cava dovremmo poi pensare anche a fare allora magari produciamo una strada che va anche di qua così poi ogni tipo di terreno può essere vedete qua non produce qua invece è fertile poi ci sono i terreni anche molto fertili e quelli dobbiamo sfruttarli bene una volta cosiddetta questa strada qui potremmo andare poi su un industria e fare l'iron mine quindi produrre anche il ferro però ci servirà almeno cinque pezzi di pietra pietra che pian piano se ne sta arrivando in città io direi di fargli scavare ancora qua allora il gioco non ha contenuti per tenervi incollati ore ed ore ma verrà senz'altro sviluppato perché i progetti sono tanti da parte dei sviluppatori e ora come ora non ha nulla di diverso da un the settlers anzi cioè completamente diverso però qua abbiamo i consiglieri che ci dicono ok stiamo facendo bene sono i classici consiglieri che che ci danno due date su quello che stiamo facendo diamo un'occhiata adesso la strada ci metteremo a produrla credo spero town no scusate industry facciamo la iron mine qua e abbiamo bisogno sempre di legname ci ha già scalato il legname anche se non abbiamo ancora fatto la strada i cittadini sono impegnati a fare altro intanto direi che possiamo anche mettere un'altra casa qui mettiamo qui e appena abbiamo legno sufficiente facciamo anche un altro campo per la coltivazione intanto in alto ci dicono che sono arrivati dei cittadini non hanno trovato niente per niente nessuna casa quindi non sono potuti venire ad abitare qui e siamo già all'anno 5 quindi vedete che il tempo passa piuttosto velocemente se qualcuno venisse a lavorare qui noi possiamo mettere in pausa degli edifici quindi chiuderli per consentire la costruzione di altre altre cose e direi che quello che facciamo perché chiudiamo la miniera in modo che i cittadini possano ridistribuirsi andare a fare altro infatti gli edifici adesso iniziano ad essere costruiti ed è importante avere la miniera di ferro ma soprattutto la seconda casa e una volta che abbiamo raccolto sufficiente legno faremo un altro campo perché anche il campo poi più aumentano i cittadini più bisogno di cibo potremmo fare questo lorciata ci chiede 15 di legno ma a breve arriveranno perché loro prendono il legname lo portano al castello e poi dovremmo fare anche una una stazione diciamo del forester così almeno andremo a mantenere magari una foresta pensiamo qua sotto o di qua così almeno andremo a mantenerla bene ora la casa sta arrivando la casa sta arrivando allora orchard no dobbiamo tenere in considerazione anche l'idea del pozzo perché il pozzo da comunque benessere al c al villaggio orchard eccolo qui perfetto prossimo passo il pozzo appena abbiamo abbastanza a correre vediamo un attimo la nell'industria e la casa del forester ci chiede 15 di legname e 5 di pietra si ci serve un botto di un botto davvero lo votevano visuale abbattiamo abbattiamo e abbattiamo ecco molto fertile questo qua molto verde sarebbe interessante da anche qua da coltivare quindi è una buona idea abbattere magari questa miniera facci dei campi poi espandendo la strada una volta che poi avremo la possibilità avremmo abbattuto tutto avremmo fatto le nostre belle mura intorno espandendo magari questa zona qui chiudendo la qua si non verrà una città bellissima potevo iniziare meglio ma pazienza allora che cosa facciamo adesso possiamo fare nell'industria cerco il forster il forester lo mettiamo deve essere vicino a dei a delle non deve essere lontano dalle nostre strade ok e deve essere vicino a degli alberi ragazzi non è il massimo possiamo piastarlo qui perfetto magari qui bene così abbiamo degli alberi ce lo piazziamo lì così almeno intanto la produzione di pietra è ferma ma possiamo credo anche andare a riaparire questo posto perché i cittadini sono aumentati e in pratica fino a quando non avremo uno scontro il gioco è così in pratica andremo sempre di più a costruire edifici e daremo forma la nostra città è una sorta di simulatore strategico di città medioevale fantasy dove poi stanno accatastando tutto qua non abbiamo una vera e propria stockpile che magari piazzando una stockpile qui darebbe più senso perché non dovrebbero tornare fino al castello per prendere i materiali questo sta portando perché sei viola ok gli piace la sua casa va bene va bene va bene questo gioco non ha altro che da continuare ad essere sviluppato cioè può solo migliorare è già bellino godibile ha delle recensioni positive su steam molto positive e perché graficamente lo trovo gradevolissimo un po la pixel mi ricordo più come si chiama quel gioco vabbè tanto ormai in voxel così ce ne sono tantissimi e ok abbiamo il forester con nessuno che ci lavora eh vabbè arriveranno i cittadini che devo dirvi il cibo siamo messi piuttosto bene questo lavora sempre lì molto bene abbiamo un sacco di legno e ci manca la pietra la pietra deve deve arrivare a 10 e ci piazziamo anche il pozzo vediamo se abbiamo qualcosa da fare no ci chiede tantissime risorse anche la costruzione del castello bridge food possiamo fare il granaio il granaio non sarebbe male piazzarlo magari qui ok quando invece andiamo a piazzare il pozzo ve lo anticipo piazzando il pozzo ci viene dato diciamo un cerchio intorno al pozzo che sarà l'area poi rifornita dal dallo stesso pozzo quindi potremo andare a vedere quante case andremo a fornire di acqua allora stiamo guadagnando della buona pietra dobbiamo adesso mettere un pozzo e una seconda casa quindi andiamo a buttare un po di pietra ancora di legname scusate allungando un po la strada ora il pozzo arriverà a breve adesso esattamente per la... ok qua abbiamo l'area si rifornita dal pozzo e poi possiamo permetterci anche la costruzione di... il cortege non sarebbe male appena raggiungiamo nuovamente le 10 pietre lo piazziamo qui e aumentiamo considerevolmente la quantità di cittadini presenti intanto il problema adesso è che stanno costruendo... non stanno costruendo nulla perché sono già tutti impegnati nessuno sta lavorando alla foresta dovrei chiudere degli edifici però non saprei che cosa chiudiamo questo campo qui liberiamo un... un lavoratore che magari si porta avanti con i lavori si ci fa la strada molto bene fin quando non faremo... eh la casa lì sarà un po' un problema ok il granaio sta arrivando e dovremo fare attenzione perché vedete dobbiamo amministrare le forze lavoro che abbiamo con appunto gli effettivi bisogni del villaggio adesso questo non ha lavoratori c'è sto tizio qui che sta andando prendendo lino sperando che non vada poi a impegnarsi nel granaio perché sennò è un po' un problema allora abbiamo a breve adesso ancora la possibilità di avere 10 pietre e sbloccare il cottage ok in questo momento lo piazziamo cerchiamo di capire dove è l'entrata qui perfetto grandissimi abbiamo... guardate quanto abbiamo adesso come massimale di cibo stiamo andando piuttosto bene non abbiamo ancora salti questa è la mappa totale di gioco non c'è altro sistema dinamico anche di nuvole che generano poi le nevicate la velocità standard è questa a 1 quindi siamo già all'anno 13 13 anni abbiamo fatto 3 case e non è propriamente il massimo appena arrivano 12 nuovi cittadini possiamo andare a riaprire tutto quello che abbiamo adesso possiamo riaprire questo campo qui che non è coltivato però allora ragazzi c'è qualcuno che ci sta lavorando no non ci sono lavoratori all'opera stanno costruendo la strada adesso pian piano comunque insomma insomma questo è il gioco a grandi linee l'abbiamo abbiamo visto praticamente le basi più avanti poi vabbè si combatte ci sono gli scontri vanno vanno approntate le difese e diventa una sorta di tower defense con eh le baliste con le varie torri di acere che difendono gli assalti dei nemici che al momento in difficoltà facile il gioco ci sta concedendo parecchio tempo per poter sviluppare tutto bene e difenderci può solo migliorare non è un gioco per tutti perché ovviamente bisogna essere appassionati di strategia di gestionali ma lo trovo gradevole soprattutto rispetto ad altri titoli che stiamo guardando ultimamente mi sembra un prezzo molto onesto 9,99 per un gioco che sarà comunque sviluppato un gioco che ha avuto il boom in kickstarter e quindi vanta anche dei degli sviluppatori carichi e motivati ragazzi io tendo come sempre un vostro commento qua sotto fatemi sapere che cosa ne pensate di questo game alla prossima ciao ciao ciao